Una delegazione del partito di ultradestra tedesco Alternative für Deutschland si è recato a Mosca per incontrare il ministro degli esseri russo in un momento in cui i rapporti tra Russia e Germania sono tesi per il caso Navalny, una visita che ha fatto scalpore a Berlino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sull'Unione Europea per uscire dal progetto del gasdotto Nord Stream 2 che porterebbe gas dalla Russia in Europa aumentando così anche l'influenza sul continente.